Capitolo 17 Incontro allo chignon del destino Trovate qualcuno che vi ami così tanto da spingervi giù da una scogliera come ha fatto la mia ragazza? Qualcuno che lo faccia senza esitazione, con piena fiducia nelle vostre capacità, con l'incrollabile certezza che la vostra relazione può reggere un gesto del genere e la totale fiducia che quando uscirete dall'acqua, ammesso che sopravviviate, lo perdonerete incondizionatamente per avervi spinto. Lo perdonerete quasi certamente, probabilmente. Punti extra se trovate qualcuno con abbastanza faccia tosta da augurarvi buon viaggio mentre lo fa. In qualche modo, mentre piombavo nella piscina, riuscii a tenere in mano il bastone di iride. L'acqua mi colpì come un'esplosione artica, congelandomi il sangue nei capillari e facendomi contrarre le dita delle mani e dei piedi. Potevo respirare sott'acqua, ma il freddo nei polmoni mi sembrò il peggior attacco di acidità di stomaco di sempre. Esiste l'assideramento toracico? Mentre la nuvola di bolle si disperdeva, mi ritrovai a galleggiare nell'acqua turchese più limpida che avessi mai visto. La luce filtrava dalla superficie, proiettando scintillanti motivi azzurri a squame di pesce contro le pareti del burrone, tanto da farle sembrare rivestite da una cotta di maglia vivente. A quanto pareva, ero solo. Niente serpenti cornuti, niente furie a ozziare in costume da bagno. Intorno a me, però, stava iniziando a sbocciare una nuvola di erba, sporcizia e sudore. Il bastone aveva iniziato a fumare, ammorbidendo lentamente secoli di sudiciume. Da un lato, evviva, si sta pulendo. Dall'altro, mi sentivo ignobile perché stavo inquinando quell'acqua incontaminata. Poi una voce disse «Opera de no!». Il tipo che galleggiava di fronte a me era color blu zaffero, il che lo rendeva quasi invisibile. Riuscivo a malapena incrociare il suo sguardo, anche se era a distanza di sputo. Io però sott'acqua non sputo perché da maleducati. Portava canottiera e pantaloni larghi e aveva lo shignon maschile più bello nella storia degli shignon maschili. Potevo capire come mai fosse istruttore di yoga, a parte il fatto che gli mancava la tipica energia calma e meditativa. Con la bocca corrucciata circondata dalla barba e gli occhi scuri e arrabbiati, sembrava pronto a farmi il saluto al sole direttamente in faccia. «Ciao», esordì. «Tu devi essere il dio del fiume il lisso». «A dire il vero sono l'addetto alla piscina. Vuoi un asciugamano o un ombrellone?» «Dici sul serio?» «No, imbecille che non sei altro. Certo che sono il lisso, il potente potamus di questo fiume». Avevo conosciuto abbastanza divinità fluviali da riuscire a trattenermi dal sorridere di solito quando usavano il termine potamus, ma mi era ancora difficile non pensare agli ippopotami. «Scusami se mi sono tuffato senza invito nelle tue acque», dissi. «Sono Percy Jackson, sei il figlio di Poseidone?» aggiunsi il punto interrogativo perché a volte il nome di mio padre apre le porte, quelle acquatiche soprattutto. Ilisso spalancò gli occhi. «Oh!» incrociò le muscolose braccia azzurre come un genio che sta per esaudire un desiderio. «Beh, in tal caso va bene che tu sia caduto nella mia incontaminata grotta privata con quel bastone lercio e senza nemmeno toglierti le scarpe!» «Dici sul serio?» «No, imbecille che non sei altro!» mi schioccò due dita davanti. Le scarpe e i calzini mi furono strappati dai piedi per poi essere sparati fuori dall'acqua. Il bastone di iride mi sgusciò di mano e balzò in superficie. Feci un rapido calcolo matematico a sfondo etico cercando di capire se combattere un dio del fiume nel suo stesso fiume fosse una situazione vincente e, in caso affermativo, se iride lo avrebbe considerato cruelty free. Le mie stime furono no e no. «Scusami per le scarpe», dissi nel tono più diplomatico possibile, «ma avrei bisogno di pulire quel bastone. Ti dispiace se…» «Lo vai a prendere?» finì ilisso al mio posto. «Certo che no!» schioccò di nuovo le dita e questa volta a essere sparato fuori dall'acqua fui io. Andai a sbattere contro il fianco della scogliera e atterrai, bagnato e gemente, su una stretta sporgenza. Appoggiato accanto a me, per fortuna integro ma ancora abbastanza sudicio, c'era il bastone di iride. Le scarpe non si vedevano da nessuna parte. Mi misi seduto e mi strofinai la testa. Mi sanguinavano di nuovo le dita. Probabilmente non era una buona cosa. Ilisso emerse dalla piscina e la superficie dell'acqua gli ribullì intorno alla vita. Una piccola galassia di goccioline senza peso gli orbitava intorno ai capelli, centrata sullo scignon nero. «Ciedo così poco», si lamentò, «usare il modulo di iscrizione. I serpenti cornuti sono da martedì a giovedì. Furie e altre tirapiedi degli inferi lunedì, mercoledì, venerdì. Semidei mai togliersi le scarpe prima di entrare in acqua e soprattutto utilizzare solo le piscine più in basso. La sorgente off-limits si è riuscito a infrangere tutte le regole». «Non lo sapevo». Ilisso indicò una targa di bronzo inchiodata alla parete rocciosa accanto a me. «Regole della piscina». Detesto le istruzioni scritte, soprattutto quelle attaccate dove non puoi vederle fino a che non le hai già infrante. «Va bene», riprovai. «Però... fammi indovinare». La galassia acquosa di ilisso si mise a turbinare più rapidamente. Lo scignon piegava il tempo e lo spazio. «Le regole non si applicano a te». «Beh, io non...» «Sei un'eccezione. I tuoi bisogni sono prioritari». «Ecco, è già abbastanza brutto che mi abbiano tolto la copertura», brontolò. «A valle la qualità della mia acqua è ormai inqualificabile. E ora tu vuoi inquinare la mia ultima piscina incontaminata perché hai bisogno di un bastone pulito?» «È il caduceo di iride, se può servire». «Oh, in tal caso...» «Mi zittirei di nuovo con il sarcasmo, giusto?» «Allora non sei un completo imbecille».» Ilisso sorrise. «Era sarcastico, comunque». «La mia solita fortuna. Avevo optato per la sincerità in una battaglia a colpi di sarcasmo. Probabilmente iride ed ebbe avevano offuscato le mie difese naturali. Alzai lo sguardo verso la sporgenza, dove Annabeth si era immobilizzata, evitando saggiamente di attirare l'attenzione su di sé. Mi stava lanciando quello sguardo all'armato che conoscevo bene. Persi, non morire». Sembrava che Ilisso non l'avesse ancora notata ed era mia intenzione che continuasse a non farlo. Neppure io volevo morire, ma almeno, se fossi stato ucciso laggiù, Annabeth si sarebbe pentita di brutto per avermi spinto e io avrei potuto prenderla in giro per l'eternità. Peccato che sarei stato morto. Pazienza». In lontananza il flauto di Grover suonava frenetico e sempre più debole. Mi chiesi quanti serpenti lo stessero inseguendo e per quanto ancora sarebbe riuscito a sfuggirgli mentre suonava quella melodia. A quanto sapevo, non aveva mai marciato con una banda musicale. «Ho capito», alzai le mani in gesto di resa. «Una volta ho conosciuto Lutson e List Reaver. Detestano venire inquinati e le tue acque sono molto, molto più pulite». La bocca di listo si contraste in una smorfia. Non riuscii a capire se fosse disgustato, sorpreso o compiaciuto, ma non mi aveva ancora ucciso, così decisi di continuare a parlare. È un errore che faccio spesso. «I fiumi hanno vita d'ora», proseguì. «Non mi farebbe piacere se la gente mi trasformasse in un canale di scolo o mi scaricasse addosso liquami, né se mi costruisse sopra una diga elettrica o una diga qualsiasi, a dire il vero». Feci scivolare furtivamente una mano verso il bastone e ne afferrai l'impugnatura. «Avrei dovuto chiederti il permesso», continuai. «Errore da principiante. Ma ci deve essere un modo per farmi perdonare e poter lavare questo bastone, perché per Iride è davvero importante. Hai insistito sul fatto che fossero le tue acque, perché...» deglutì. La testa mi pulsava così tanto che mi risultava difficile pensare. «Cosa avrebbe fatto Anna, Beth?» Alzai lo sguardo e la vidi picchiettare su un immaginario orologio da polso. Niente di utile. La musica di Grover si allontanava sempre di più. «Perché Iride ti ammira», ripresi rivolto al dio del fiume. «Sapessi come parla di te e delle tue lezioni di yoga. Penso che sia la tua fan numero uno». Lo scrutai in cerca di un qualsiasi segno che le mie parole stessero avendo un impatto positivo. A quel punto avrei accettato quasi tutte le reazioni tranne il sarcasmo. Come potevo sapere che un istruttore di yoga maniaco della pulizia potesse essere così acerrimo? «Stai cercando di farti perdonare?» constatò Ilisso. «Nel modo più assoluto. E magari puoi schioccare le dita e annullare tutti i danni arrecati al mio fiume, lasciandolo più pulito di come lo hai trovato». «Ehm...» «Cosa che faresti solo dopo aver ottenuto ciò che volevi?» suppose. «E io dovrei crederti sulla parola». «Beh...» strinsi più forte il bastone. «Non stava andando come volevo. Mi domandai se non avrei avuto più fortuna a cavalcare le rapide fino a Yonkers. Voglio dire, sarei felice di provare». «Come è andata a finire con l'azzo nell'istriver?» chiese, dolce come un limone. «Sono belli puliti adesso?» «Non proprio, ma quelli sono più difficili da ripulire. Sono molto più grandi di te». Risposta sbagliata. Gli occhi di lisso si strinsero. «Capisco. Mi trovi piccolo. Irrilevante. Anche se c'è una lista d'attesa di sei mesi per entrare nel mio corso di Vinyasa Yoga». Sulla sporgenza in alto Annabeth stava frugando nello zaino, senza dubbio alla ricerca di qualcosa che potesse tirarmi fuori dalla situazione che, secondo lei, avrei dovuto essere in grado di gestire alla grande. La immaginai estrarre il pugnale e urlare «Cawabonga!» mentre saltava sulla schiena di Ilisso. Per quanto mi sarebbe piaciuto assistere a una scena del genere, non volevo però vederne le conseguenze quando si fosse trovata ad affrontare l'ira del sarcastico Dio con lo chignon. Provai a pensare a un'altra soluzione, cosa non facile con il mal di testa martellante che avevo. In futuro avrei dovuto ricordarmi di rompermi il cranio solo dopo aver finito di usare il cervello al suo interno. «Ci deve essere qualcosa», supplicai. «Magari una visita al palazzo di Poseidone? Sta costruendo un'incredibile piscina a sfioro. Potresti tenere il tuo corso di… quello che è affacciato sulla piattaforma continentale, per esempio con le balene. Mi sembrava un buon affare, perché le balene sono fantastiche. A quanto pareva però, lo yoga per balene non era una moda che attirava il lisso». «Temo di no», il suo sorriso si fece più gelido dell'acqua. «Ma un modo per farti perdonare c'è». Annuii con entusiasmo il che mi offusco la vista. «Qualsiasi cosa, certo». «Qualsiasi cosa? Perfetto. Mi sono sempre chiesto quanto tempo ci mette ad annegare un figlio di Poseidone. Vediamo un po'. Il fiume mi si riversò addosso come un muro di mattoni liquidi». Capitolo 18. Annabeth conquista tutti.